Salve a tutti cari followers, buona estate e soprattutto buon mare ragazzi! Ma vuol dire, cosa ci fa qua il nostro bel Akira Gaming e il direttore con questo bellissimo luglio caldo, bello, focoso, invece di bersi un mojito, una granita, quello che è? Siamo qua perché vogliamo annunciarvi un bellissimo format per settembre. Di cosa parleranno Akira e il direttore, che hanno pochissime cose in comune? Parleremo di Hardware Tour, un nuovissimo format ideato da Akira e da me che parlerà del mondo dei computer. Soprattutto, visto che io non ne capisco un cavolo, cari ragazzi di computer, volevamo ideare una rubrica molto molto semplice per tutti quelli che si vogliono affascinare, che sono affascinati o che vogliono crearsi un computer con le proprie mani o comunque che ne vogliono capire un pochettino come me. Akira, tu che sei l'esperto, che cosa andremo a vedere in questo bellissimo Hardware Tour? Prego! In questo Hardware Tour noi andremo a conoscere tutte le componentistiche importanti e anche di secondo piano che possono servirci per assemblare un PC. Quella di nuova uscita, quella che già sono uscite ma sono ancora fattibili e ci danno delle ottime prestazioni. Ma in tutto ciò dire, ma lo possiamo trovare dappertutto una cosa che questa? No, noi ve lo vogliamo dare in uno nuovo formato, semplificato, farvelo capire a parole spicce perché quel componente e non quell'altro. Hardware Tour è fatto per tutti, proprio per aiutare i vari utenti a conoscere bene che cos'è un PC, i soldi dove li vanno a spendere e perché cosa li devono andare a spendere. Partiremo con la componentistica, poi andremo più avanti, mostreremo anche una build finita dopo che vi avremo mostrato tutti i vari componenti e poi continueremo con altre novità, sempre basate sul mondo dell'informatica, questo sconosciuto. Tra l'altro ragazzi, a prova di scemo come il direttore che non capisce un cavolo di informatica e soprattutto di hardware. È molto importante perché molti sono un po' di truffaldini, già lo sappiamo, molti con dei nomi ci affascinano, ma bisogna sapere il perché e il per come di quando fanno le cose. Per questo nasce Hardware Tour, per tutti voi che volete saperne di più, che volete magari da zero saperne molto di più, vi aspettiamo a settembre con Akira Gaming, con Hardware Tour, il format adatto a voi, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, sul YouTube ovviamente di Akira Gaming dove trovate un sacco di cose belle interessanti, su tutti i nostri canali e su tutti i nostri social e mi raccomando, seguiteci o vi licenzio. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao!